Salve a tutti, oggi parleremo del cosiddetto uranio impoverito, ne parleremo per due motivi, il primo è che è stata aperta un'inchiesta dalla parte della magistratura sul poligono militare di Salto di Quirra, proprio per l'utilizzo di armi al cosiddetto uranio impoverito e poi anche perché c'è un altro caso che è avvenuto in Francia, per la prima volta è stata trovata una contaminazione certificata di uranio impoverito sul corpo di un militare deceduto, ne parleremo con i nostri ospiti in studio, Massimo Zucchetti, professore di impianti nucleari e consulente della commissione parlamentare sull'uranio impoverito e consulente della procura di Lanusei, in collegamento abbiamo da Cagliari il tenente colonnello Giovanni Fresi, rappresentante del poligono militare del Salto di Quirra, da Bologna il senatore Fabio Rizzi della Lega, membro della commissione parlamentare sull'uranio impoverito, da Olbia il senatore del PD Gian Piero Scanu, membro della commissione del parlamentare sull'uranio impoverito. Benvenuti a tutti, abbiamo parlato di Salto di Quirra, abbiamo realizzato recentemente un'inchiesta su questo argomento e vorremmo farvene vedere un breve estratto. L'inchiesta è stata realizzata da Flaviano Masella. Procuratore, dopo che ha deciso la resumazione di una ventina di pastori deciduti qui nella zona del poligono di Quirra negli ultimi anni, qual è stata la reazione dei familiari? Moltissimi familiari sono venuti personalmente negli uffici della procura per chiedere con forza che si faccia ogni sforzo per il migliore accertamento della verità. È una verità che ha due facce, una faccia rivolta al passato, a quanto è successo ai loro familiari, alle cause della loro malattia e purtroppo della loro morte, ed una faccia rivolta al presente, a quello che oggi accade perché li riguarda direttamente. Molti di loro infatti fanno i pastori e sulle stesse terre dei loro congiunti e vogliono pertanto essere certi che non si rivolgeranno e non avranno lo stesso destino dei propri congiunti. L'importante anche appunto è l'aiuto della cittadinanza che è stata la base di questa inchiesta che lei ha iniziato, ha intrapreso. È fondamentale nella conduzione di questa indagine il contributo che è stato dato da persone a conoscenza dei fatti. È importantissimo il contributo che ancora molti cittadini possono dare perché le numerose circostanze a loro conoscenza sono di fondamentale importanza per l'accertamento delle singole responsabilità. Verranno riesumati i corpi di 20 pastori deceduti in Sardegna nella zona di Quirra negli ultimi 15 anni. È questo l'ennesimo colpo di scena nelle indagini della Procura di Lanusei sulla cosiddetta sindrome di Quirra. Una serie di morti per tumore. Tutti gli allevatori che verranno riesumati hanno condotto al pascolo le loro greggi sui terreni del poligono sperimentale interforze di Perdas de Fogu, salto di Quirra. Il procuratore della Repubblica di Lanusei, Domenico Fiordalisi, ha incaricato il fisico nucleare Evandro Lodi Rizzini di analizzare i resti umani riesumati. Lo scopo è individuare eventuali tracce di contaminazioni radioattive o tossiche. Così come in questi giorni l'ultima inchiesta di Regnus24 aveva denunciato. Secondo la Procura di Lanusei, dal 70 ad oggi sono state compiute numerose operazioni di distruzione mediante enormi esplosioni di munizione di vario genere, probabilmente anche all'uranio impoverito e di armi nel territorio del poligono. Alcuni camion, senza nemmeno essere scaricati, venivano fatti esplodere assieme al loro carico, ma avevamo anticipato anche le scottanti verità di un responsabile tecnico operativo del poligono di Quirra, ora in pensione. L'ingegner Giancarlo Carrusci che ha dichiarato che nell'84 fu usato uranio impoverito a Quirra quando una ditta tedesca, la MBB, sperimentò un missile Cormoran. Come potete vedere in questo straordinario documento di cui siamo entrati in possesso, il missile fu lanciato su un vecchio rimorchiatore davanti alle coste del poligono. Il missile, come potete vedere, è esploso ma è rimasto intrappolato nella nave. E la cosa grave è che subito dopo, quando era ancora avvolto dalle polveri radioattive, è stato portato nel porto di Cagliari, dove è alta la frequentazione di ogni genere di operatori commerciali e turistici. Bene, tenente colonnello Giovanni Fresi, ci può dare intanto un po' un quadro di quanto è grande esteso il poligono? E anche per la sua conoscenza, se questa attività con armi all'uranio, al cosiddetto uranio impoverito, siano state usate oppure no? Buongiorno a tutti. Allora, il poligono è grande 120 km2, il poligono a terra, il poligono a mare sono 11 km2. Per quanto riguarda l'utilizzo dell'uranio impoverito, posso confermare che non è mai stato utilizzato presso il poligono di Piazza di Fogo. Dagli altri del comando del poligono non risulta assolutamente niente. Questo episodio, che è stato raccontato anche dal nostro collega, della sperimentazione di questo missile Cormoran attestata all'uranio impoverito, a lei risulta o non risulta? Che è stato sperimentato il missile Cormoran, non ci sono dubbi. L'unica cosa è che dagli elementi che noi abbiamo, a noi risulta che sia un missile a carica cava e non all'uranio impoverito. Comunque, ora c'è la magistratura che sta facendo un'indagine, quindi noi siamo tutti fiduciosi nell'indagine della magistratura, che speriamo che si concluda in tempi brevi, affinché possa essere fatta chiarezza anche su questo aspetto. Senta, è il poligono più grande d'Europa questo, ed è un'impresa molto importante, perché credo che l'affitto di questo poligono costi 50 mila euro all'ora. Io capisco che per la zona sia un grosso problema bloccare tutto, ma la salute credo che sia la cosa principale, credo che ci sono stati diversi casi nella zona di patologie non facilmente spiegabili. Lei ha conoscenza di questo? Guardi, quello che lei posso dire è intanto il fatto dei costi del poligono, che costa 50 mila euro all'ora è un dato impreciso. Diciamo che, contrariamente a quello che si può pensare, il poligono incamera pochissimo, anzi veramente il poligono non incamera niente, chi incamera i soldi è il Ministero del Tesoro. Però quello che le posso dire è che ci sono degli anni che non è stato fatturato niente, mentre invece possiamo dire che dal 2000 fino a oggi diciamo che il budget che ha incamerato il Tesoro per le attività svolte in poligono vanno da 17 mila euro a un massimo di 285 mila euro. Se poi mi dà un po' di tempo do un'occhiata alle mie carte, posso essere preciso specificando anno per anno quanto è stato incamerato all'interno del poligono. Ma vorremmo chiederle un'altra cosa. Se a lei risultano tutte le armi che sono state sperimentate, cioè a chi gestisce il poligono, risultano tutte le armi che sono state sperimentate dai vari esercici, ce ne sono stati di ogni nazionalità, dai russi agli israeliani ai libici, quindi se esiste una sorta di informazioni, un catalogo delle armi che sono state sperimentate oppure essendoci segreto militare questo non è facilmente accessibile neppure a voi? Guardi, le armi che sono state sperimentate dagli stamieri non sono così tante come si dicono. Quello che le posso dire è che generalmente gli stranieri quando partecipano partecipano per attività oppure per esercitazioni internazionali, dove prevalentemente l'attività che viene fatta è un'attività dry, cioè in bianco, senza l'uso di alcun munizionamento. Lei conosce la zona, ha un minimo di conoscenza, può darci un quadro generale, ovviamente senza violare tutti i suoi impegni che ha preso nei confronti sia della Procura che della Commissione? Ma certo, io sono stato anche consulente della precedente Commissione senatoriale che non ha potuto lavorare altrettanto bene come sembra stia lavorando questa, anche per i ristretti orizzonti temporali abbiamo dovuto interrompere i lavori a causa della fine legislatura e in quel caso abbiamo effettuato un sopralluogo. Un altro sopralluogo l'ho effettuato più recentemente quando ho collaborato con l'ottimo collega di Cagliari, il professor Randaccio, per l'apertura di una serie di casse contenenti materiale radioattivo prive di segnalazione che erano state ritrovate in un deposito. Quindi conosco abbastanza bene la zona, tra l'altro vi è una ampia zona di mare che anche se non fa parte del poligono strettamente è però soggetta probabilmente a restrizioni di tipo militare come ad esempio una no fly zone e all'interno della base vi sono alcuni centri abitati, gli abitanti di questi centri abitati rilevano, hanno fatto rilevare nel corso degli anni una assolutamente anormale frequenza di insorgenza di una serie di patologie, principalmente tumori liquidi, linfomi e leucemie e questo si trascina da un po' di tempo, che cos'è dovuta a questa anormale insorgenza, un'indagine epidemiologica seria è necessaria e va fatta, possibilmente non ripetendo errori di indagini epidemiologiche precedenti e poi quali sono le cause, adesso sia l'ottima azione della Commissione senatoriale che del Procuratore ci consentirà senza dubbio, secondo la mia modesta opinione forse di ottimista, di andare a identificare quali sono le cause di queste patologie che esistono e sono difficili da negare in quanto si tratta di pastori, persone che vi dovrebbero vivere in un ambiente incontaminato, non si spiega il motivo per cui invece ci siano queste insorgenze davvero anomale di queste patologie, tra l'altro abbastanza orribili. Mi scusi se ritorno ancora su di lei, ma volevo farle un'ulteriore domanda, tenente Colonnello, sulla Nuova Sardegna è stato pubblicato un articolo che parlava di esplosioni fatte addirittura senza scaricare il materiale che si trovava su un camion, è stato fatto esplodere un intero camion con le armi che c'erano per distruggere questo materiale che era tossico, che era nocivo e tutto questo è stato seppellito e c'è il sospetto che ci sia una sorta di scarica informale di materiale tossico, nocivo. A lei risultano questi episodi? No, guardi, presso il poligono in località Torrigigli si svolgeva l'attività dei test esplosivi dove veniva fatto brillare del munizionamento, però posso affermare che mai nessun camion è stato integrato e fatto esplodere assieme a tutto il munizionamento, anche perché se ne troverebbe traccia. Quindi diciamo che la zona dei test esplosivi è sempre stata quella, quindi chiunque può andare a verificare in qualsiasi momento. Non c'è nulla di nascosto, non c'è nulla di sotterrato, non c'è nulla di occultato, posso intendere così la sua risposta? Guarda, io parlo in base ai fatti. Diciamo che già dal 2000 sono state fatte le prime analisi, prima dal CISAM, che sarebbe il centro interforze e studi e applicazioni militari di Pisa, che ha fatto i primi controlli. Altri controlli sono stati fatti successivamente anche alla presenza dei giornalisti. Devo dire che la procura militare di Cagliari tempo fa fece delle indagini, successivamente anche ci fu il professor Riccobono che fece uno studio approfondito sul territorio. Sono state fatte due ulteriori indagini da parte della procura di Cagliari. Alla fine, per iniziativa della difesa, nel 2008 è stato costituito il Comitato di Indirizzo Territoriale per il controllo e il monitoraggio delle aree del PISCHI, dove i dati sono stati presentati recentemente, il primo di febbraio, da dove non è emesso alcun dato anomalo. Questi dati sono stati consegnati al Comitato degli esperti che si deve esprimere in merito. Va bene, io per il momento la ringrazio. Volevo chiedere ai senatori, al senatore Fabio Rizzi, che è membro della Commissione, quali sono un po' le sue opinioni su quello che per ora siete riusciti a individuare, gli argomenti che avete individuato e le ricerche che avete messo in atto. Diciamo che noi non siamo partiti da zero, siamo partiti proprio sulla scorta di quella commissione di inchiesta della precedente legislatura, interrottasi proprio perché si è interrotta la legislatura, ma che comunque era arrivata addirittura a fare un sopralluogo sul poligono di Perdas de Fogos, sul salto di Quirra e a non trovare realmente tracce di cosiddetto uranio impoverito. Eppure nel corso degli anni si sono seguite queste segnalazioni di morti anomale sia tra i pastori sia addirittura tra il bestiame dei pastori, quindi le pecore, in maniera assolutamente anomala e se fosse confermata questa incidenza con un'epidemiologia assolutamente devastante rispetto alla media nazionale, rispetto alla media della Sardegna piuttosto che dell'Ogliastra e del Cagliaritano. Per cui io credo che il compito di questa commissione sia ribaltare completamente il concetto seguito fino ad oggi in questa indagine, in questo supporto di indagini e mi fa piacere che la procura di Lanusei si sia mossa in questa direzione. Ha ragione il comandante del poligono nel dire che dal 2000 in avanti probabilmente non è mai stato sparato niente di anomalo, questo perché i controlli ci sono stati e sono stati fatti in maniera assolutamente oculata e soprattutto credo che le nostre forze armate o le forze armate internazionali non abbiano certo utilizzato armi nucleari nel salto di Quirra. Il problema è quello che è successo nel corso degli anni 70, 80 e 90 dove i controlli non esistevano, erano molto più aleatori e dove probabilmente è stato fatto qualche danno reale. Non a caso le malattie, i problemi, le morti sono sorte in questi ultimi anni e sappiamo benissimo che il danno biologico determinato dal danno nucleare ha bisogno di un certo numero di anni per rendersi operativo. Io non so se sia stato uranio impoverito piuttosto che qualche altra sostanza tossica. Non so chi lo ha sparato anche perché probabilmente a memoria d'uomo è difficile anche andare indietro a ricostruire tutte le forze armate, tutte le ditte che hanno sparato nel salto di Quirra e cosa hanno sparato, per cui credo che si debba completamente ribaltare la questione, andare dal punto di vista sicuramente epidemiologico, ma un epidemiologico serio come è stato ricordato precedentemente, da un punto di vista riesumazione di cadaveri, indagini ambientali, andare a capire quali possono essere i tossici ritrovati in luogo e soprattutto dal punto di vista epidemiologico andare a vedere semplicemente dalle cartelle, dalle dimissioni precedenti negli anni scorsi degli ospedali del circondario, se emerge davvero per determinate patologie come la leucemia, l'infoma, il mieloma e altre malattie chiamate in causa, esiste davvero a raggera una maggiore incidenza di queste patologie nelle immediate vicinanze del salto di Quirra e a distanze crescenti di chilometri siano significativamente superiori rispetto alla media regionale o nazionale. A questo punto è ovvio che si dovranno prendere i provvedimenti del caso, da un lato decidere quale può essere il destino del poligono che già comunque adesso mi sembra nettamente migliorata con dei controlli seri e soprattutto capire come procedere negli indennizi piuttosto che in altre situazioni a vantaggio della popolazione ivi residente che potrebbe avere o avere avuto i danni di qui sopra. La ringrazio, senatore. Senatore Giampiero Scanu, ci sente? Benvenuto. Sì, mi sento. Allora, lei è anche sardo quindi ha probabilmente un motivo molto forte per occuparsi di questi argomenti. Ci può dare un po' il quadro che si è fatto, la sua opinione su questo lavoro che state facendo? Sì, purtroppo ci stiamo occupando di un'eventuale problematica che potrebbe essere esistente non soltanto in Sardegna, nel territorio nazionale ma anche negli altri teatri di guerra. Quindi la materia deve essere valutata in maniera ampia senza perdere di vista quella che è la primazia che va riconosciuta alla necessità di far emergere l'eventuale esistenza di quello che viene definito dagli esperti il nesso causale fra l'uso di determinate sostanze nella fattispecie il cosiddetto uranio impoverito è l'insorgenza di tutta una serie di malattie, di patologie che hanno colpito sia numerose persone che hanno svolto la propria attività al servizio delle forze armate sia altre persone che lavorano, si è parlato appunto dei pastori, in prossimità nel caso che stiamo esaminando del poligono di Quirra. Mi sono fatto un'idea che di fatto non sia mai stata svolta una vera indagine epidemiologica. Nel corso di un'audizione che si è tenuta recentemente insanato il dottor Onnis che coordina un comitato di esperti, quello che è stato recentemente, proprio qualche istante fa citato, ha affermato che l'unica indagine epidemiologica sarebbe di carattere descrittivo. Ad una mia domanda su che cosa si intendesse per carattere descrittivo ha risposto, facendo un po' una sintesi estrema ma particolarmente efficace, si sono contati morti. Ora, il conteggio macabro dei morti non può essere considerato un'indagine tanto meno di tipo epidemiologico perché la mera presa d'atto di decessi non immette in una condizione di tipo scientifico adeguata per poter individuare per l'appunto il cosiddetto nesso di causalità. È per queste ragioni che noi come Senato all'unanimità qualche settimana fa abbiamo votato due mozioni con le quali chiediamo al governo di svolgere attivamente la propria funzione per pervenire alla costituzione di un board scientifico che sia diretto dall'Istituto Superiore della Sanità e al quale l'Istituto si affianchi la regione Sardegna e che goda di tutta una serie di competenze, alcune delle quali peraltro sono anche presenti quest'oggi in studio, per attuare con il massimo rigore, ma un rigore scientifico non un rigore ragioneristico o giornalistico, le verifiche che si rendono necessarie per dare questa risposta. Queste persone per quale ragione sono morte? Sono morte in relazione alle cose che si sono verificate nel poligono oppure sono altri elementi o di carattere genetico o di natura ambientale comunque non attribuibile alle funzioni che si svolgono là? Ecco, questa è la risposta fondamentale. Tutto il resto viene in secondo piano. Vorrei chiederle di rispondere con un no. Ho letto sulla Nuova Sardegna che sono state fatte minacce a persone che diffondivano le informazioni sulla situazione reale del poligono di salto di Quirra. Minacce intimidendo una persona, mettendole il cappe al collo, eccetera. Io vorrei la sua opinione. Pensa che sia verosimile questo episodio oppure no? Sì, io l'ho letto. Questo effettivamente è stato pubblicato, non so se dalla Nuova Sardegna o dall'Unione Sarda. Ritengo sia verosimile, anche perché purtroppo, mi dia soltanto qualche secondo, ciò che lei diceva in apertura è assolutamente vero. Qua c'è un problema anche di tipo economico, nel senso che chi solleva queste questioni, chi cercando di fare il proprio dovere, pone queste questioni all'attenzione della politica e del mondo scientifico, può essere visto anche come una sorta di guastafeste che può far rischiare la perdita del posto di lavoro a centinaia e centinaia di persone. Io adesso sono costretto a bloccarmi per pochi secondi per la pubblicità e poi riprendiamo immediatamente. Grazie.